Continuiamo il nostro viaggio sulla scia del nostro maestro Evaglio Pontico usando un po' delle sue famose confutazioni, cioè dove prende dei pensieri del maligno e li confuta con testi della scrittura, metodo un po' difficile da prendere per se stesso, ma cercheremo di prendere qualche esempio perché in sé richiederebbe molto tempo di spiegazione e andiamo avanti nel nostro viaggio per vedere questo combattimento spirituale. Allora stiamo vedendo la lussuria, si parla del digiuno, si parla della gola e ricordiamo che abbiamo abbondantemente spiegato nella trasmissione precedente che la gola e la lussuria sono molto collegate perché di fatto la gola è la passione fondamentale, la voracità, il darsi piacere, l'attribuirsi cose, da questo deriva la sua applicazione nel mondo sessuale che è la lussuria, che è un'ingordigia sessuale. Allora l'arte del combattimento fondamentale contro la gola è il digiuno, è il dominio di se stessi, è il governo delle proprie pulsioni. Ecco, si può pensare, esplicitiamo ancora meglio questo pensiero, che si possa entrare nel combattimento spirituale senza fare niente di veramente oneroso, senza entrare nella fatica del digiuno. Ecco, allora cosa fa Evachiro Pontico, cita Genesi 49 e parla di Issacar, uno dei figli di Giacobbe, il quale aspira al bello, vuole una bella terra e quindi piega alle sue spalle al lavoro penoso e divene un bracciante. Che vuol dire questa cosa? Evachiro Pontico genialmente dice, se vedi una cosa bella tu sai che per quella dovrai lavorare, è pazzesco pensare di crescere nella vita spirituale senza il cimento del digiuno, ovvero sia. La idea è che non occorre impegnarsi nelle cose faticose per entrare in una evoluzione spirituale. Ecco, questa è una stupidaggine e noi capiamo questo sulla base di un esempio. Per esempio, ogni artista prima di essere artista deve essere artigiano. Noi abbiamo oggi come oggi il rischio di essere circondati di pseudo artisti, gente che si mette a imbrattare una tela a casaccio e si considera artista perché dal libero sfogo ha un istinto, alt. Ogni vero artista conosce la materia che deve manipolare. Non si può comporre musica di valore senza capire la musica come è fatta, senza capire la sua struttura interna. non si può scolpire della pietra senza capire come è fatta la pietra e senza essersi lungamente esercitati nell'arte di manipolare la pietra e via dicendo, ovvero sia. Pittore, scultore, musicista non hanno scelta per fare il bello e per fare il bene bisogna faticare, non si dà bellezza o bontà senza piegare le spalle al lavoro servile. Si vede quando un artista è prima di essere artista artigiano, cioè sa trattare la materia. E così non si arriva ai risultati del dominio di sé, del governo, delle passioni, senza passare per il piegare le spalle al lavoro servile della piccola, noiosa, quotidiana obbedienza. È assolutamente necessario. Cose che il mondo capisce perfettamente. La cosiddetta gavetta che si può fare per quanto riguarda il guadagnare soldi o l'essere famosi. C'è gente che è disposta a fare sacrifici incredibili, ma per la vita spirituale certamente bisogna passare per un piegare le spalle. Allora, bellissimo questo esempio, Issacar, vedendo che era buono il suo luogo di sosta e fertile della sua terra, piegò le sue spalle al lavoro penoso e divenne un bracciante per diventare padrone della sua bella terra. È importante questo discorso qua, perché noi dobbiamo adesso entrare un pochino nello specifico del combattimento della lussuria, ma nessuno di noi sarà padrone del proprio corpo se non entra in un combattimento austereo e serio. Impossibile affrontare la vita spirituale senza l'argomento della penitenza. Sarà impopolare questo argomento, sarà impopolare questa tematica, ma meglio un vero impopolare che un falso popolare. Niente da fare, dovremmo entrare nel combattimento vero e proprio. Allora, torniamo al nostro argomento della lussuria. Nella analisi che i maestri spirituali fanno, non è strano a questo anche il nostro evaglio pontico, noi sappiamo che ci sono due canali fondamentali dell'inganno della lussuria, cioè della distruzione della lussuria, perché, attenzione, noi stiamo parlando di un mondo autodistruttivo. Non dimentichiamo di essere sotto l'eggita della gola e la gola è un suicidio larvato, una maniera di non essere, di intontirsi. Questo si applica anche alla lussuria. Il motore di questa autodistruttività ha due componenti principali. La curiosità e la fantasia. Allora, la lussuria, che ha un suo punto di arrivo in un linguaggio di violenza, di abuso, è una strada di infelicità. Anche perché soltanto l'amore autentico dà felicità al cuore umano. Cioè, noi siamo felici solamente quando amiamo per davvero. Quando il nostro amore è autentico, vero, dall'inizio alla fine, allora la nostra felicità è esplosiva, meravigliosa e peraltro stabile e profonda. Allora, noi ricordiamo che esistono due tipi di demoni, quelli che ci portano fuori dalla strada buona e quelli che vogliono rovinare la strada buona in se stessa, quelli che vogliono pervertire gli atti buoni dal di dentro. Con la lussuria, come con la gola, siamo nell'ambito dei demoni che ci vogliono portare fuori dalla giusta via. Allora, la lussuria fondamentalmente è superficialità. E la lussuria desidera una persona solamente per la sua epidermide. Lo sguardo del lussurioso offende uno sguardo avido, predatore. Noi siamo in un mondo che idolatra la lussuria. E in un certo senso potremmo dire che nessuna epoca ha mai cosificato tanto le persone, e direi soprattutto le donne, quanto la presente epoca, la quale costringe il linguaggio del personaggio femminile, e anche quello maschile per carità, ma direi che essendo comunque il potere economico in mano ai maschi non c'è niente da fare, e comunque il personaggio femminile è un personaggio che deve essere desiderabile e comunque misurabile secondo una esteriorità, come fosse un cavallo, come fosse un oggetto, come fosse una cosa che ha una forma ed è poco importante che abbia un contenuto. Allora, questi pensieri sono superficiali. sono pensieri che derivano da uno scivolamento fuori dal nocciolo delle cose, dal nocciolo del nostro cuore, dal nocciolo del nostro orientamento all'amore, fino a un orientamento ad un'attitudine bambinesca, infantile. Come si alimentano questi pensieri distruttivi e umilianti? Ripetiamo, con la fantasia e con la curiosità. La fantasia è, diciamo così, già la seconda fase, è l'attardarsi su un'immagine. Uno inizia a sottolineare l'immagine che ha lasciato entrare nel proprio cuore, ha lasciato entrare nella propria mente e inizia a elaborarla e si stacca dalla realtà. Soprattutto la lussuria è superficiale perché è tutto un mondo vissuto senza la relazione, a prescindere dalla relazione, che ipotizza la relazione, sogna la relazione, ma non è nella relazione. Infatti è un mondo di immagini da realizzare e da inseguire. Questa fantasia, dove chi è debole in questo senso deve stare molto attento a non attardarsi pigramente nelle immagini lussuriose nella propria mente, deve iniziare a spezzarle. Ma il problema è che quello, come abbiamo già detto, è già un secondo punto. Il primo punto è la curiosità. Cosa è questa storia della curiosità? È quel tipo di orientamento della nostra intelligenza che muove la naturale buona pulsione verso la scoperta del territorio in un movimento di possesso e di esproprio dell'altro dove si tende a arrivare all'inarrivabile, si tende a scoprire ciò che non è alla propria portata. E questo degenera peraltro in immaginazione violenta nella sua elaborazione successiva. Allora, di che cosa stiamo parlando? Del fatto che, per esempio, l'arte della seduzione è l'arte di aizzare questa curiosità, sicché, per esempio, delle immagini semplici o delle realtà puramente esposte senza malizia sono meno interessanti di immagini non esposte, non immediatamente disponibili, ma che sembrano dover essere conquistate, catturate. Un esempio molto semplice. Una ragazza in spiaggia, in costume, è meno seducente della stessa ragazza in minigonna incontrata la sera. Eppure l'epidermide esposta è molto di meno. Ciò che noi dobbiamo capire è che la curiosità guarda l'altro come un oggetto da arrivare a prendere. L'alternativa a tutto questo è la relazione con la persona, è il dialogo, è la conoscenza. Noi dobbiamo opporre alla curiosità la conoscenza, conoscerti, un tu, una persona. Non toglierti un pezzo, prenderti una parte, espropriarti in qualche maniera. Logicamente questo è un linguaggio che è molto diverso fra il maschile e il femminile. Il maschile tendenzialmente è tendente a catturare l'oggetto. Il femminile è più tendente a catturare l'attenzione. Se durre o conquistare, il maschio conquista tendenzialmente, espropria, violenta, abusa, la femmina attira lo sguardo, attira il cuore, desidera essere desiderata. Queste sono cose che partono da una radice che sarebbe anche buona perché è una radice biologica, ma prendono una via totalmente sballata. Allora noi dobbiamo stare attenti a combattere la curiosità con la conoscenza e a non induggiare i suoi pensieri curiosi con la fantasia e passare dalla fantasia alla realtà. Vedete che ci sta questa opposizione? La lussuria si combatte con il reale, con il dialogo, con la relazione, con il parlare, con il conoscersi, con l'entrare nella realtà. Allora, Evaglio dice, per esempio, l'erba cresce vicino all'acqua. Cioè, chi gira intorno alla fontana del peccato, eh, non c'è niente da fare, questo poi cadrà nella fontana. Chi non si mantiene lontano dalle sorgenti della lussuria, cadrà nella lussuria. Ovvero sia, la prima regola, da sempre, per il combattimento contro i pensieri impuri è tenersi lontano dalle sorgenti, è integrare la propria sessualità in una dinamica personale, tenendosi lontani dalle storture, governare la pulsione senza esporla alle sue degenerazioni. Allora, come si può pensare di poter combattere contro una tentazione senza uscire dalla zona della tentazione? Alcuni peccati forse vanno combattuti lì per lì, dice San Paolo dell'Iran e l'Iran non peccate, ma la lussuria bisogna sottrarsi alle sorgenti, cioè tirarsi fuori come abbiamo detto prima in questa stessa trasmissione, attraverso la realtà, attraverso un bagno di realtà, sottrarsi a questa sorgente di curiosità e di fantasia. Allora, l'esito finale della lussuria, dobbiamo ricordare, è il non voler vivere, il disprezzo della vita, perché uno ha tenuto se stesso lontano dalla sorgente della vita che è l'amore, che è la bellezza, che è il bene e c'è una tentazione che dice non c'è nulla di bello nella fatica del tenersi aggrappati al bene, ma dice appunto, possiamo leggere il testo di Agro Pontio, contro il pensiero della tristezza che sorge in noi per le molte tentazioni di fornicazione che ci assalgono e fa crollare la nostra speranza dicendoci ma cosa mai vi aspettate di bello dopo tutta questa fatica, cioè mostrando quanto è tosto, quanto è difficile riuscire a combattere, dice, se ascolterete la mia voce e tu farai tutto quanto io ti comando io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari questo combattimento dice Vagrio non lo fai da solo il combattimento contro la lussuria non va mai affrontato in solitudine allora solamente qualche esempio per capire la lussuria è un luogo da cui tenersi lontani tenersi lontani dalla curiosità tenersi lontano dal soffermarsi accettare il combattimento e mai affrontare da soli nella realtà nel dialogo in comunione con Dio mai come un perfezionismo personale sempre come un luogo di incontro in quella difficoltà in quella pesantezza del combattimento con l'amore di Dio con la sua tenerezza con la sua bellezza con la sua tenerezza